Un incidente mortale si è verificato ieri sera a Buccino Scala, in una località a Ponte San Ancono, al chilometro zero della ex SS19 Terra. Due vetture, una Golf con a bordo padre e figlio di nazionalità rumena, ma residenti a Caggiano, e un Fiat Ulisse con a bordo un 57enne di Spinoso, in provincia di Potenza, hanno avuto un impatto frontale. Uno scontro violento e drammatico. Immediato l'intervento sul posto dei sanitari del 118 e dei carabinieri della stazione di Buccino, comandati dal maresciallo Solimene, e del comando dei carabinieri di Eboli, guidato dal tenente Geminale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Eboli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture. Secondo alcune testimonianze, sembra che la Golf stesse viaggiando in direzione Buccino, mentre il Fiat Ulisse andava in direzione opposta quando è avvenuto il drammatico incidente. Non c'è stato nulla da fare per il trentenne romeno, residente a Caggiano, Johan Samson, e per il figlio Ionut, nonostante il disperato tentativo dei sanitari di rianimarlo e la corsa verso il vicino ospedale di Polla. Gravi invece erano nelle condizioni del 57enne Biagio Padula, il quale, dopo il primo trasporto all'ospedale di Polla, vista la gravità delle ferite, è stato strasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, ma in mattinata è giunta la notizia del suo decesso. Ora si indaga per capire l'esatta dinamica dell'incidente, che ha sconvolto oltre che la comunità di Caggiano, dove risiedeva da anni Johan Samson, che da poco era diventato padre per la seconda volta, anche la comunità di Pertosa, dove risiede il fratello Nicolai, eletto al Consiglio Comunale durante le ultime elezioni. Per le vittime sarà disposto quasi certamente l'esame autoptico prima di consegnare le salme ai familiari per i funerali.